Siccità e tutela delle riserve idriche, realtà di stretta attualità che diventano prioritarie quando si tratta di incentivare politiche di intervento. Il comune di Bassano ha stanziato infatti 50.000 euro complessivi destinati alla sostituzione di caldaie obsolete, alla valorizzazione del patrimonio arboreo e appunto alla realizzazione di vasche per la raccolta delle acque piovane. Stiamo vivendo ovviamente un periodo di forte difficoltà idrica, la siccità è sotto gli occhi di tutto, diamo un incentivo anche a chi intende installare appunto delle vasche di raccolta dell'acqua. Nel caso dell'acqua e del risparmio idrico è fondamentale che si studino e attuino azioni precise. Per la realizzazione di vasche per l'accumulo di acque meteoriche destinate all'irrigazione di superfici e giardini, il contributo stanziato è di 2.000 euro per chiunque voglia installarne una. Nel 2021 infatti da questo punto di vista il comune di Bassano e Grappa ha sottoscritto il patto dei sindaci per la qualità dell'aria. Diciamo che noi oltre alla qualità dell'aria ci preoccupiamo anche della terra, appunto incentivando la valorizzazione del patrimonio arboreo esistente e da quest'anno ci occupiamo anche dell'acqua. Possono avanzare la richiesta i cittadini privati che non abbiano usufruito di contributo per la stessa finalità negli anni precedenti.